E ora! Secondo lo studio dell'Arza qui in Toscana, è stato fatto un conteggio, quello che asporta una pianta d'olivo annualmente è ciò che va integrato al terreno annualmente, per cui si parla di azoto, fosforo, potassio e ossido di calcio. Si parla di 144 grammi per quanto riguarda l'azoto, che è fondamentale per la crescita dell'olivo, si parla di 77 grammi di fosforo, che è fondamentale per il suo irrobustimento, e 255 grammi di potassio, fondamentali per la maturazione del frutto. Ossido di calcio, si parla di 172 grammi, elemento, macroelemento molto importante per la robustezza del legno e la resistenza alle sue spaccature. Per cui, con questi dati fatti allo studio dell'Arza, diventa semplice poter fare un piano di concimazione degli olivi. Stamattina, noi siamo in Oliveta Giovane, oggi siamo al 27 di gennaio, abbiamo integrato, valutando soprattutto l'aspetto economico. In questo momento storico, siamo nel 2022, i concimi hanno avuto un aumento molto alto dei costi, per cui abbiamo deciso di utilizzare della semplice pollina, che comunque è un'integrazione di azoto, di fosforo, che, diciamo, dati in dose molto basse, perché qui si parla di piante molto giovani, circa 700-800 grammi a pianta non, diciamo, sul fusto, ci ha consentito, con una spesa molto bassa, di poter fare una prima integrazione. Per cui, abbiamo detto pollina, nel nostro caso abbiamo preso questa, ovviamente concimi organici, miscele e concimi organici, bio, e andiamo a vedere la composizione insieme, abbiamo azoto organico 3%, l'idea fosforica 3%, carbonio organico di origine biologica 30%. Quindi l'abbiamo dato alle pianze 300 grammi con una mestolina. Siccome è un concimi, appunto, organico, avremo necessità di lavorare, dare una lavorazione al terreno.